Basta camminare per Arezzo per capire che è diversa, è diversa di uguale rispetto alle altre, ci sono solamente i tre punti in palio, poi è diversa perché è sentita, è diversa perché è importante per la classifica, riprendiamo il campionato dopo la pausa, è tutto diverso, è tutto diverso e quindi siamo consapevoli di questo e abbiamo la voglia, ci siamo allenati per cercare di fare in modo di dare tutto quello che è nelle nostre possibilità perché a fine gara i nostri tifosi siano orgogliosi di quello che la squadra ha fatto. Io ho già deciso, ho già scelto, poi chiaramente non lo dico a voi anche perché ancora i ragazzi non lo sanno, però può rimanere uno barra due dubbi orientativamente insomma la squadra che dovrà partire dal primo minuto ce l'ho già in testa, detto questo è chiaro che poi dopo devono essere bravi tutti a farsi trovare pronti quando verranno chiamati in causa perché ne abbiamo visto anche contro la Calarese nell'ultima gara disputata sempre di più nel calcio di oggi, non conta giocare 5, 15 o 70 minuti, conta che chi scende in campo dia sempre il massimo e le proprie possibilità. Massimiliano ieri ha fatto poi la prima volta dell'ultimo periodo un allenamento completo e quindi ancora non l'ha neanche visto, vediamo come ha risposto il ginocchio alle sollecitazioni di ieri, si farà le valutazioni solo esclusivamente alla fine della seduta di oggi per capire se partirà dal primo minuto oppure se verrà in panchina, ciò non toglie la massima fiducia in Borra perché è un ragazzo che è cresciuto tantissimo e che quando è stato chiamato in causa si è sempre dimostrato all'altezza. Per De Feodis è un discorso un po' diverso perché nelle ultime due sedute non si è allenato con la squadra, oggi proverà, partirà anche in maniera graduale anche separatamente rispetto al gruppo, se le sensazioni saranno positive bene lo butterò dentro con gli altri a fare la parte finale della seduta altrimenti si faranno le dovute valutazioni anche strumentali per poter capire anche come intervenire per poter capire se la prossima settimana ci sarà un inizio graduale oppure se potrà rientrare subito in gruppo.